carissimi amici di spezia tv oggi bellissima giornata di sole anna maria qui vicino a me che presenta la sua edizione della rassegna letteraria che quest'anno è bella ricca 14 è la quattordicesima quattordicesima edizione a fianco a me c'è anche tuo nonno che è un bellissimo amico che è venuto a rappresentare un po gli editori e questa rassegna che ha dei temi particolari storie storiacce storielle giusto è molto interessante non anticipo niente però ci sono sia storie sia storielle sia storiacce per cui bisogna vederla tutte le sere bene ricordiamo le date perché oggi siamo qui per pubblicizzare questo evento e perciò invitiamo a tutti a venire a bocca di magra che parte diciamo la rassegna dal 30 di giugno c'è il 30 di giugno l'1 luglio e il 2 luglio poi il weekend successivo 7 8 e 9 bene i libri come vedete sono qui sulla sul tavolo le presenteremo perciò ci sono questi scrittori che sono amici anche di Anna Maria raccontiamo di qualcuno certo raccontiamo qualcosa di tutto vi devo raccontare del ministro roccella con la quale sono andata a torino e abbiamo subito una censura vergognosa perché non ci hanno fatto parlare una banda di scalmanati che io ho chiamato fascisti così sono stati zitti e non ci hanno fatto parlare per tre ore invece è un libro bellissimo perché racconta la storia della sua vita che era una famiglia era è vissuta in una famiglia radicale perciò poi ha avuto a sentire c'è questo il 2 di luglio ci saranno censure poi c'è una cosa divertentissima e voglio che tutti partecipino ed è il motivo per il quale soprattutto è venuto raffaello c'è un ring diabolic contro diabolic perché ci sono stati due libri scritti uno d'aldo dalla vecchia che questo qua ecco uno d'aldo dalla vecchia e l'altro da davide steccanella tutte e due su diabolic che è vero che qui siamo siete tutti un po giovani quindi non siete appassionati di diabolic ma diabolic per me a 12 anni 14 ne avevo quando è uscito è stata la scoperta di un eroe negativo perché prima vivevamo tutti con disney e topolino quanto è bravo e paperino quanto è sfigato ma è buono passato questo arriva diabolica che era un criminale di cui tutte le ragazze erano innamorate tutte innamorate anche se c'era questa eva kant che era un nostro punto di riferimento non eravamo gelose era un nostro punto beh io voglio vedere combattere questi due miei amici che hanno scritto il libro su questo tema ci tengo tantissimo poi abbiamo il weekend successivo 7 8 9 sono stata diffidata dal farlo nel weekend e non durante la settimana perché chi viene qui a bocca di magra in ma anche chi vengono persone da forte dei marmi da massa comunque chi viene da qui chi viene qui poi magari viene solo il weekend fino alla fine di luglio e allora perdevano delle serate e quindi mi hanno fatto un esplicita diffida solo weekend e così abbiamo fatto e quindi il weekend successivo poi abbiamo caprarica che tutti conosciamo ormai perché tutte le storie della famiglia reale poi stupendo ragazzi una favola che ha scritto fabrizio biggio lo conoscete fabrizio biggio sono sciubito da voi no ma prima sono sciubito da voi che faceva bravissimo e ha scritto questa storia stupenda di una bambina che è nata come un fiore ed è stata in innaffiata tutta la vita dai genitori mentre lei girava il mondo è molto interessante molto da vedere e poi l'ultimo finiamo con le storiacce che è silvana giacobini che ha scritto la storia di genovese più o meno delle ragazze intorno a genovese terrazza sentimento terra ecco e questo è l'altro motivo per cui lui è venuto per diabolica e terrazza sentimento perché il resto mi sono documentato perché si interessa di fare del mio meglio siete contenti che ho raffaello raffaello è un mio amico del cuore e l'ho voluto perché voglio condividere con voi il suo spirito la sua ironia anche la sua amicizia sperando che diventi se mi consenti io sono onorato perché questo tipo di attività e questo tipo di iniziativa che nasce da un privato e alla collaborazione anche delle istituzioni e mi onora farne parte perché è un servizio pubblico vero vero è un servizio pubblico vero ai turisti agli abitanti agli amici per carità però gratuitamente potere godere della cultura in un bellissimo parco in un posto come questo ti fa onore e fa onore alle istituzioni e agli sponsor che ti appoggio ecco infatti parliamo poi chi ti ha aiutato quest'anno come sponsor come sponsor sono stata aiutatissima perché io ho avuto sempre come sponsor l'hotel santa caterina istituzionale perché abbiamo stefano che il direttore stefano de mastri che il direttore che sempre ha ospitato sia gli scrittori che gli amici degli scrittori gratuitamente quindi grande sponsor poi amadori ormai da anni e che è stato costretto a riempire i negozi dei prodotti amadori per superare aia non lo so poi quest'anno rodolfi che ha e l'ortolina che è una cosa deliziosa che tutti conoscerete che un sugo un concentrato pazzesco ecco così lo facciamo conosco ci sono le verdure ci sono le verdure infatti è buono i concentrati che facevano le nonne cento anni fa ho delicious ancora come ho da alcuni anni per le acciughe e che oggi mangerete ho Andrea Morobaccio che è il pizzaiolo più bravo della zona e che oggi farà le pizze per tutti voi poi abbiamo ancora Carrefour che lo vedremo giù poi abbiamo la serie dei vini abbiamo la serie dei vini che è fondamentale abbiamo Cadufferrat no Lini oggi sarà Lini berremo tutti Lini perché con le pizze andava bene il lambrusco e Lini ha inventato questo lambrusco trattato come una champagne quindi è una cosa assolutamente da provare poi abbiamo tutti gli altri e abbiamo una esperta di vini che è lì e che ci farà tre serate di degustazione vini con tutte queste marche prestigiose che abbiamo che sono Silvio Carta poi le altre vini del consorzio di Parma la la famiglia Cottarelli che però anzi è perché scritta piccola ragazzi io avendo passato i vent'anni se non ho gli occhiali non riesco comunque chi vuol venire li vede no no vedrete avrete ma chi viene poi a miei aperitivi assaggerà anche mentre chi non viene agli aperitivi avrà Carrefour tutte le sere nella nella villa romana in più come sponsor e non è da poco un uomo che anziché spogliarmi mi veste che è Piero Moretti in genere gli uomini mi spogliano questo questo mi veste stasera oggi stasera è trovarlo è la mia età ormai mi vestono spogliarli va bene invece come ti dicevo prima come sempre durante la rassegna come sempre ormai che fanno parte del gruppo ci sono i musicisti che qui qui presente Manuel Visibi che mi ha preparato una serie di canzoni che perché sapete che il mio format è presento il libro ma per ogni libro ci sono 4 5 canzoni la mia intervista viene interrotta quattro volte per le canzoni che vengono cantate abbastanza bene devo dire da questo gruppo che continuiamo a chiamare perché siamo affezionati e adesso vediamo perché abbiamo delle canzoni che secondo me sono molto a tema ma ancora non le ho sentite quando abbiamo finito di mangiare le pizze lo tengo qui lo sequestro me le faccio cantare tutte e 24 perché 24 sono bene ok allora soprattutto non vi ho detto mia bag mia bag questa borsa mi accompagnerà tutte le sere è un regalo di Monica Bianco che è una mia amica che ha un bellissimo negozio a Milano che si chiama mia bag ma c'era anche a Forte dei Marmi forse valigie senza saperlo io due anni fa fui omaggiato di una valigia che oggi ho qui a vedi mi aiuterà a trasportare i bagagli vedi dovevamo portarla qui quindi abbiamo mia bag anche mia bag a 360 gradi ecco totale ricordiamo 30 giugno fino al 9 di luglio alle ore 21 villa romana bocca di magra mi raccomando bravissimo bravi vi aspetto perché poi Jean Pierre viene tutte le sere intervista tutti gli autori fa la diretta partecipa alla degustazione dei vini ti faccio fare un giro anche con la mia bag se vuoi ti faccio fare un giro con la mia bag dai ciao amici di spezia tv ciao grazie ciao 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 Grazie a tutti.